Ciao amici di MyFootballJersey, oggi vedremo insieme la seconda maglia del Barcellona per la stagione 22-23 in versione player, quella indossata dai calciatori. Mi raccomando, se il video vi piace mettete un like e iscrivetevi al canale per essere aggiornati su prossime recensioni. Ci vediamo alla fine, ciao! La sprendida maglia da trasferta Nike Barcellona 2022-23 introduce un design audace ispirato agli olimpiadi del 1992 che si sono svolte a Barcellona 30 anni fa. La maglia da trasferta ha un colore di base dorato riportando alla memoria i primi anni 2000. Tutti i loghi sono blu scuro. Il colore e il design delle maniche di questa nuova maglia sono stati ispirati dalle medaglie d'oro che gli atleti ottengono agli eventi olimpici, 30 anni dopo le olimpiadi di Barcellona del 1992. Inoltre il colore dei 5 anelli olimpici sono sui polsini delle maniche e sui calzini. Un motivo sottile che mostra la mappa della città di Barcellona completa il look. Cosa ne pensate? Nella mia personalissima classifica questa prende 5 stelle. Secondo me è strepitosa, una maglia da avere a tutti i costi. Questa fantasia è veramente bellissima. Qui in alto vedete il costo? Che dire se non come al solito che è veramente bassissimo, quasi incredibile. Vi ricordo che in descrizione qua in basso trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete utilizzare sul sito per comprare quello che volete. Ora vi lascio alla parte in cui vedrete la vestibilità. Spero di vedervi presto a prossime recensioni, su prossime recensioni. Ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.